E allora, adesso vi faccio una domanda, fate molta attenzione, si è conclusa la gara tra Napoli e Genk, il risultato 4-0, la tripletta di Arkadius Milik e il gol di Mertens a cucchiaio. E' stata, secondo me, anche una buona gara, chiaramente c'è una manifesta superiorità, io l'avevo detto anche nel video fatto su calcio passo, l'ho detto, questa è una partita che si chiude già nel primo tempo, e infatti facevo la stessa domanda che adesso faccio a voi, l'ho fatta anche sull'altro canale, e dicevo, ma adesso con che faccia di Laurentiis si presenta a Ancelotti e gli dà il ben servito, perché questo stanno scrivendo i giornali da giorni. E comunque questa gara non avrebbe significato nulla, però scusate un attimo, la stagione è ancora diciamo quasi a metà, gli obiettivi potenzialmente sono tutti ancora raggiungibili, il campionato nonostante il distacco, la Coppa Italia che ancora praticamente deve iniziare, la Champions League comunque hai passato il girone e stai agli ottavi, ed è un girone comunque dove c'era il Liverpool, campione d'Europa, è il Salisburgo che comunque è una mina vacante. Allora io mi chiedo veramente, con che faccia si presenta a De Laurentiis e lo fa fuori per prendere Gattuso, che per carità, voglio dire, lo abbiamo detto, in condizioni di difficoltà, Gattuso è un uomo spogliatoio, Gattuso è anche uno che ha la famosa cazzimma in grado di farla tirare fuori probabilmente anche ai calciatori. Gattuso è uno da 4-3-3 e il Napoli si sa per come è stato in questi anni sarriani, per come è stato costruito, è una squadra da 4-3-3 e a quel punto Ancelotti l'avrebbe dovuto capire e adattarsi invece che fossilizzarsi sul 4-4-3-3. Ma comunque sia, adesso, che ancora la stagione è in corso, che il primo step è stato passato, quindi l'obiettivo minimo è stato raggiunto, chiedo a voi, e se voi foste presidente De Laurentiis, caccereste Ancelotti? Rispondete.